Ciao di nuovo da Francesco Nano, in questa video guida scopriamo un microfono davvero interessante, si tratta dell'audiotecnica AT3035, video recensito da Urukai, che praticamente sta diventando un nostro grande fan e collaboratore. Ciao Michele. Allora, la video guida di Michele è interessante soprattutto perché ci spiega le qualità principali di questo microfono abbastanza economico ma performante e soprattutto ci fa intuire quanto resistente sia agli urti. No, non ti anticipo niente, comunque non è che lo prende a martellate, però insomma è un buono spunto per vederti anche la parte approfondita. Ti lascio a Michele, buona visione, buona navigazione su scuolasuono.it. Ciao. Ciao a tutti gli amici di scuolasuono.it e agli appassionati di recording. Sono Michele Pocchieri, Urukai di Un Terzo LSB Studio in Milano. Se volete altre info, potete consultare la scheda profilo su scuolasuono.it. Bene, quest'oggi siamo qui per parlare dell'audiotecnica AT3035. Il microfono in questo caso sta riprendendo ora la mia voce. E' un economico e versatile microfono dell'audiotecnica. Un'aziendina che ha sempre mirato a prodotti accessibili a tutti gli home project studios relativamente a comprezzi contenuti. E' qualità abbastanza elevata, insomma, buona qualità. Infatti questo microfono ce lo porteremmo a casa con meno di 200 euro. E' un mic abbastanza versatile, un condensatore utile per strumenti acustici, voci, riprese di ambienti. Ha un'ampia risposta in frequenza, come dice la scheda tecnica, 20 Hz o 20 kHz, sappiamo che sono così solo indicative. E nulla. Ha il pattern polare di tipo cardioide. Nell'imballaggio all'acquisto troverete, vabbè, oltre a un piccolo manualetto con le specifiche, scartoffie, garanzie, eccetera. E' uno shock mount disegnato apposta per questo microfono, in plastica piccolino, non eccessivamente ingombrante, che credo di aver perso, infatti lo tengo in mano. E' un borsello da viaggio, che dovrei avere qui. Ecco, un borsello abbastanza pratico, imbottito. Sì, abbastanza imbottito, comodo per trasportarlo. E' un microfono. Il microfono è molto robusto. E' molto robusto. Sul retro ha due features, un taglio per le basse. Qui. E' un pad d'attenuazione di 10 di 10 decibel. Può sempre essere utile, magari, nella ripresa di sorgenti con troppa presenza, in bassa frequenza, che può magari far saturare il preamplificatore. o per, appunto, tagliare, se ci sono sorgenti che hanno un impatto in dB troppo forte, magari, che il microfono non riesce a supportare, e magari in clipping. Nel video di approfondimento vedremo un po' tutte le caratteristiche del microfono. vedremo la scheda tecnica, cercheremo di capire alcune cose su questo genere di microfoni, quindi a condensatore. Vedremo un po', magari, in quali situazioni può venerci incontro ed in quali magari non sarà il più adatto. Ti ricordo che per accedere al video sulla T3035, di video di approfondimento, dovrai effettuare la registrazione gratuita su scuolasuono.it Grazie a tutti.